Bentornati su MyFootballGersy. Oggi rivediamo una maglia che avevamo già visto in passato, la prima maglia del Real Madrid, però questa volta in un'edizione particolare con i numeri dedicati al fresco pallone d'oro Karim Benzema. Grazie a tutti. La maglia del Real ha sempre un fascino particolare. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Molto bello il violetto che è stato scelto e molto bella l'idea del numero che omaggia Benzema. Il costo lo vedete qui sopra? Non aggiungo altro, altro parla da solo, un costo veramente molto conveniente per una maglia fatta così bene. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere quale sorprese il sito prepara per voi. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.